I collegamenti hanno un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell'economia locale, soprattutto nei piccoli territori. Arriba a dire il concetto, il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli, che annuncia la volontà di incentivare i collegamenti all'arrivo dei treni dell'alta velocità dalla fermata presso la stazione Agropoli-Castellabate, facendosi ancora una volta carico dei costi. Vogliamo che all'arrivo i passeggeri possano utilizzare una navetta che li conduca direttamente a Castellabate. Con simili azioni cerchiamo di arginare il problema dei collegamenti. Il sindaco Spinelli indica un dato a riprova della difficoltà del settore. Il comune di Castellabate, per garantire il trasporto scolastico, investe circa 60.000 euro per ogni anno accademico. I ricavi, invece, si fermano a 7.000 euro, provenienti da 84 abbonamenti di altrettanti alunni che usufruiscono del servizio per la scuola dell'infanzia e la primaria di primo e di secondo grado. Mi preme sottolineare che è esclusivamente grazie a tale affidamento del comune che la società di trasporto locale riesce a garantire anche le corse di trasporto urbano che collegano le varie frazioni del nostro vasto territorio, che è così rilevante anche a livello turistico, dichiara critico il sindaco Costabile Spinelli. La regione Campania, nella programmazione degli investimenti nel settore trasporti, dovrebbe riflettere su questo dato che oltre a mortificare i servizi nei piccoli centri, pesa anche sui bilanci comunali.